Ultime ore di vacanza per Ortona e Pineto. Dopo Ferragosto per i due club inizia ufficialmente la lunga stagione 2022-2023. I Terramani saranno i primi ad accendere i motori, il 16 il raduno, a seguire test fisici e inizio della preparazione. Il 9 settembre la prima amichevole contro Macerata, una delle favorite del girone bianco. Tante le novità a cominciare dalla panchina sulla quale al posto di Franco Bertoli siederà Giacomo Tomasello, coach catanese due stagioni alla guida della Versa, sempre in Serie A3. E sono tante anche le novità nel roster, spiccano gli acquisti dello schiacciatore Sebastiano Milan, un lusso per la categoria, e del navigato palleggiatore Matteo Paris. In casa ortonese la data del raduno è stata fissata per il 18. Il 10 settembre è prevista la prima uscita a Tuscania per un triangolare con i padroni di casa e la Roma, un assaggio di campionato tra formazioni del girone blu. Inutile negare la curiosità dei tifosi per l'arrivo di Leo Marshall, icona della pallavolo cubana, il colpo di mercato messo a segno dalla società del presidente Lanci, obiettivo che la dirigenza bianca-azzura inseguiva già dallo scorso anno. Si rivedrà Matteo Bertoli che torna a vestire la maglia impavida e tra li conferme quella del gioiellino della nazionale Under 22, neocampione d'Europa, Leonardo Ferrato.